Lo difende con il corpo, prima di servirlo a Diamanti che può puntare l'uomo, Diamanti! Alessandro Diamanti, settimo gol in campionato, una rete straordinaria! Centro al basso, Borriello con il patto, il tocco all'indietro, Kuzka! Gol fantastico di Kuzka! Scattato da Kuzka, Totti, rete, un gol meraviglioso, un giocatore straordinario! Sì! Diamanti, al quinto minuto, Nadostro, Magia, va alla distanza! Parte Aquilani! 42 minuti, Alberto Aquilani, una magia, 2-1 Viola! Deporato da Candreva, che può arrivare in mezzo a un tiro, Candreva lo prova a grandestro, rete! Un bel capolavoro, Candreva fa impazzire l'Olimpico! Parte Lodi! Splendido Lodi! Quarto gol in campionato per lui, rimette in pista il Catania, 3-1, che derby! C'è Cavuizza al Sharawi, in area di rigore, parte il tiro, rete, al Sharawi, viene il gol! Quadrado, arriva al limite, dentro per Elamdawi, Elamdawi, prova a piazzare Elamdawi! Un grande gol, la Fiorentina chiude il discorso, San Siro, 3-1, primo gol italiano per Munir e Elamdawi! De Sciglio, si muovono in quattro all'interno dell'area di rigore, palla limite, Boateng, rete, gran gol! Grandissimo gol di El Sharawi! El Sharawi, il gol del Milan! Miccoli, Miccoliiiiiii! Un gol straordinario, Fabrizio Miccoli, ma che fenomeno!